Adesso è tornato, e ora non posso dire come esprimere con il consultore di Cieco, quando hai avuto un posto? Bravo, perché? Io ho fatto un posto a partecipare in un posto, a un posto, a un posto, perché è una partecipare in un posto civile, per il posto civile italiano, allora, scusa di città, quello che è capito dal sistema politico, nei locali, nel territorio, che protezione civile non è soltanto soccorso da un posto. C'è la catastrofe dell'intervento, come le persone non facendo, non è soltanto soccorso da un posto di città, si dà 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 un posto di città, e poi si parte per il posto di città, la posizione ci diverte, perché è tutto più svolto di città. Diamo a dire, e poi ho fatto un tratto, tranne per un posto di città, la scuola, insieme a quella che significa per un sistema, non si è comunque fatta un'istituzione, ma anche dire che il sistema faccia un'interventà, delle responsabilità, il Stato, la volontà di attrazione, un'interventà, la volontà di attrazione, che non può essere allogata all'interno di un'amministrazione di affidati. La posizione civile è un'attività che spiegherà un confinamento di solitari, quindi le energetiche, a partire la società scientifica, fino a coloro che, con l'assistituzione, insieme al tipo di stipulazione, e la ripresa della società di solitari, che non sono capace da fare. o la vita di questi esterni, questi esterni, capaci, appuntare, e anche invece legare, a coloro che si occupano di un'interventà, ma anche a una repubblica, ma con quest'ambito, questo si deve. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.